Buone notizie dall'ultimo bollettino ASREM. Zero contagi in Molise nelle ultime 24 ore. Dai 262 tamponi processati, infatti, non è emerso alcun caso positivo. Non solo perché ci sono altri 9 guariti, 3 di Campobasso, 3 di Montagano e 3 di Baranello. Se ne contano quindi adesso 239. I positivi attuali scendono ancora adesso 156, mentre il totale dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza è 436. La situazione del Cardarelli. I pazienti Covid sono 5, tutti della provincia di Campobasso, 3 ricoverati in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Diminuiscono anche i positivi isolati, 170, e i soggetti in quarantena, 225. Si prosegue con le visite domiciliari. Le unità speciali dell'ASREM finora ne hanno effettuate 432.